Vinta una battaglia, ma la guerra continua. I pescatori di Crotone e le Castelle non si arrendono e dopo aver ottenuto un primo successo in materia di allargizione delle royalties, proseguono nel loro stato di agitazione. Questa mattina il punto sullo stato dell'arte con una conferenza stampa a Piazza Marinai d'Italia, sul lungomare di Crotone. Il 13 luglio ha sancito un passo importante, decisivo per portare avanti la protesta dei pescatori e le richieste legittime di questa categoria verso il riconoscimento dei diritti che chiedono riconosciuti così come ve li abbiamo sviscerati in questi giorni. Quindi il riconoscimento a vedersi corrispondere è una forma di risarcimento per il mancato pescato dovuta alla presenza delle piattaforme in mare. Nel tavolo del 13 luglio quindi noi siamo riusciti ad ottenere l'elargizione futura, speriamo in tempi brevissimi, dell'annualità di estrazione 2020 e 2021, che sono annualità che vengono disciplinate da quel famoso accordo di programma del 2017, ma al di là di questo sono rimaste aperte ancora sul tavolo troppe questioni. La modifica dell'accordo di programma del 2017, la richiesta del tavolo con Eni per rivedere i criteri dell'erogazione di royalties ai pescatori, queste sono tematiche fondamentali nelle nostre richieste. Ha presenziato all'incontro anche il deputato di Forza Italia, Sergio Torromino. Stiamo cominciando a vedere i primi risultati di quello che è stato elaborato già da un anno e mezzo a questa parte. È stato approvato il mio ordine del giorno nel decreto di sostegno in bis, dove impegniamo il governo a questo tavolo con Eni, in cui si tratterà anche di un riconoscimento in percentuale più alto per quelle che sono le royalties dovute alle marinerie.